Con il pareggio interno al Calanna contro il Messina Sud probabilmente si sono esaurite le speranze playoff del Calatabbiano nel Gironecci di promozione. Ridurre il gap da Messana e Ionica è ora praticamente impossibile per far saltare la regola dei 10 punti, considerato che il Calatabbiano si deve ancora fermare per la sosta dovuta al ritiro dal campionato delle città di Milazzo. Ai ragazzi di Graziano Sapienza non resta che onorare queste ultime tre partite di campionato, a partire dallo scontro di domenica con il fanalino di coda AC Sant'Antonio. Non ci sarà centrocampo Borzi, ma Mister Sapienza ha comunque intenzione di dare spazio a molti ragazzi della squadra Juniors per fargli fare minutaggio significativo in proiezione della prossima stagione.